Alla veglia dell'attore quest'anno l'attrice e da poco regista anche Valeria Golino. Ciao Valeria. Ciao, buongiorno. Allora dicevo regista, hai avuto questi due film, diciamo tra l'altro uno molto acclamato, Miele, com'è stato il passaggio diciamo dalla recitazione alla regia? Beh è stato bello poter guardare senza essere guardati finalmente. Cioè è bello essere guardati però sai dopo 30 anni che si è guardati è stato molto riposante dimenticarsi di sé e guardare gli altri e poi è stata chiaramente un'esperienza importantissima per me, per la mia formazione insomma è una cosa che vorrei ripetere ecco. Alla valigia dell'attore presenti il film Come il vento, uno dei tuoi ultimi lavori in cui interpreti il ruolo di una direttrice di un carcere, come ti ha affascinato questo ruolo? Sì, è il film di Marco Puccioni, è un film biografico sulla vita di Armida Miserere che era una direttrice di carcere di massima sicurezza che ha avuto una vita tragica però anche molto emblematica sia sull'essere umano che su un momento storico molto particolare nel nostro paese e per me è stato difficile però anche molto bello, molto bello. Mi resta una grande dolcezza di quella persona. Valeria tu sei una delle poche attrici, pochi artisti italiani che hanno avuto la possibilità di lavorare negli Stati Uniti con attori anche molto importanti come Dustin Hoffman, Tom Cruise perché secondo te è difficile per noi italiani riuscire a sbarcare negli Stati Uniti? Ma sai, non ho la verità assoluta su questa cosa, non so veramente però varie teorie ci sono, intanto che il nostro cinema, la nostra industria non avendo più una forza di esportazione di film e quindi non essendoci attori particolarmente conosciuti negli Stati Uniti mentre per esempio in Francia l'industria è molto più forte e gli attori sono già nel loro paese delle star e quindi non so se Marion Cotillard fa un film in cui chiaramente è bravissima come il film che le ha fatto vincere un Oscar sulla vita di Edith Piaf quel film sarà visto negli Stati Uniti e avrà la possibilità forse di andare agli Oscar mentre io faccio questo film di Puccioni come il vento per quanto diciamo anche se fossi stata brava come lei ma comunque il film non avrebbe avuto l'opportunità di andare, di essere visto quindi è anche una questione proprio di non avere i mezzi per arrivarci lì poi se un attore tipo appunto io sono andata lì, ho abitato per dieci anni lì dagli e dagli mi hanno fatto lavorare, capito? però è sempre incidentale gli attori spagnoli lavorano lì perché c'è un'enorme comunità di sudamericani e quindi lo spagnolo è la seconda lingua inglese quindi diventare famosi perché si diventa appunto famosi anche per tutte quelle persone che parlano spagnolo quindi invece noi cadiamo un po' nel mezzo, capisci? non siamo... detto questo, ci sono attrici come Monica Bellucci ha lavorato moltissimo, Asia Argento ha lavorato succede, Favino, Pietro Francesco Favino lavora nei film americani succede, si lavora semplicemente non abbiamo lo stesso turbo dietro di noi perché non ce l'abbiamo nel nostro paese e quindi non ce l'abbiamo nemmeno all'estero Prima di salutarci un pensiero a Gian Maria Volontè a cui è dedicata la valigia dell'attore Beh, è il nostro idolo di tutti noi attori siamo della sua generazione ma soprattutto quelli che sono venuti dopo perché per noi è un maestro Ringraziamo Valeria Golino per Corrente TV Grazie Ciao Grazie mille